Per la prima volta in 250 anni ci troviamo in un sistema che ha abolito la sovranità degli stati, abolito la sovranità monetaria degli stati, che è il portafoglio del padre di famiglia con cui mantenere i figli, abolito la sovranità dei parlamenti assoggettati a leggi fatte da persone, da tecnocrati non eletti e abolito anche la sovranità delle costituzioni nate dopo la seconda guerra mondiale. La costituzione una volta che tu gli sovrapponi i trattati, anzi inserisci nel corpo della legalità costituzionale su molti dei principi qualcosa che è incompatibile e va nella direzione opposto è come lacerarla, è come se uno prendesse le pagine della costituzione e le strappasse. Questo più si dice più Europa, più si prendono le pagine della costituzione e le si strappa uno a uno. Grazie per la visione!